4 maggio 1949, ore 16 e 45. Siamo sopra Savona, voliamo di sotto delle nuvi, 2000 metri, fra 20 minuti saremo a Torino. Questa è una delle ultime comunicazioni che arrivano dall'aereo della squadra Il Grande Torino di ritorno da un amichevole a Lisbona. Pochi minuti dopo, una delle più grandi tragedie che abbia sconvolto la storia del calcio. Alle ore 17.05, l'aereo Fiat G212, con a bordo l'intera squadra, i dirigenti, gli allenatori, alcuni giornalisti e l'equipaggio di bordo, si schianta contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica di Superga, sulla collina torinese, facendo 31 vittime.